Ciao, sono Lucia Tolico e in questo video voglio parlarti di te. Partiamo dalla questione del non ci andiamo mai bene. Molto spesso incontro persone che mi parlano di come non vanno d'accordo con se stessi, di come si sgridano, di come litigano con se stessi tutti i giorni, continuamente. Persone che non sono contente di se stesse perché sono convinte che dovrebbero essere diverse da quello che sono. Può capitare a tutti di non piacersi di tanto in tanto o in alcuni periodi della propria vita, ma quando questa cosa diventa continua, quando c'è sempre da ridire nei propri confronti, allora facciamoci attenzione perché sta succedendo qualcosa che ci farà stare molto male. E questa cosa comincia con il dirsi dovrei essere in un altro modo. Molto spesso è il dovrei riuscire a fare di più di quello che faccio, non faccio mai abbastanza, se mi dovessi fermare probabilmente non farei niente, ecco perché devo continuare a fare, fare, fare. Ora siamo nel tema dell'accettazione di sé, di se stessi, siamo nel tema dell'andarci bene come siamo, siamo in questo tema in cui arrivati a qualsiasi età in cui siamo, è bene accettare quello che riusciamo ad essere, non per fermarci, ma per procedere, per andare oltre, perché guardate che fermarsi è proprio dirsi dovrei fare di più, dovrei essere diverso, diversa da quella che sono. Fermarsi è questo, è il momento di stallo in cui non riusciamo ad andare avanti e facciamo, 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 facciamo tante cose, ma alla fine non sentiamo noi stessi, la vera essenza di noi stessi, non sentiamo quella voce interiore che ci dice chi veramente siamo e allora finiamo per non dormire la notte, mangiare troppo poco o mangiare troppo. Nel momento in cui diciamo a noi stessi, ok, io sono fatta così, io sono fatto così, in quel momento ci plachiamo. Quante volte guardiamo il nostro corpo e diciamo che non ci piace? C'è il brufoletto sulla faccia, i capelli che non sono come vorremmo, forse non ci sono nemmeno, la cellulite sulle gambe, questo è un tema femminilissimo. Bene, partiamo dall'accettare ciò che del nostro corpo non ci piace, ok? Partiamo da accettare quello, abbiamo la cellulite, benissimo diciamocelo, non mi piace la mia cellulite. Piuttosto che dire non mi piaccio, ho questa brutta cellulite sulle gambe, è meglio dire ok, ho la cellulite. Come posso fare per accettarmi così come sono? Perché nel momento in cui ti accetti puoi cambiare te stesso, puoi modificare parti di te, parti esteriori, parti interiori. Nel momento in cui ti accetti. E tutto questo ha a che fare anche con l'idea di paragonarsi sempre agli altri. E allora succede che le persone che incontro mi dicono tutti sono tranquilli, sereni, mentre io no, io non sono così, io ho bisogno di darmi da fare continuamente, io ho bisogno di essere diversa, io non sono mai serena, io non sono mai sereno. Tutti gli altri sono diversi, tutti gli altri sono sereni, a nessuno importa determinate cose che importano a me, io sono molto sensibile, non dovrei essere così, tutti sono diversi da me. Ecco, quando ci diciamo questo tutti, tutti sono diversi, tutti sono migliori di me, ecco, quando diciamo questo tutti, fermiamoci un attimo, perché non è vero. Guardate, non è vero a livello proprio quantitativo, tutti chi? Tutti i miei amici, allora diciamocelo, tutti i miei amici, ma possibile che abbiamo solo amici migliori e diversi da noi? Possibile che esista questa condizione? Ora, io spero di avervi fatto riflettere. Se il video vi è piaciuto e se questo argomento vi è piaciuto, ci sono dei sistemi, dei modi di fare, di pensare per superare questo problema dell'accettazione di sé, della non accettazione di sé. Bene, mettete i vostri mi piace, fate in modo con i vostri mi piace che io capisca di dover fare un video su questo tema, un video di superamento di questo tema, cioè come fare ad accettarsi, mettete i vostri mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e aspettate perché arriverà un altro video, ok? Io vi saluto, ciao! Ciao!